Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi passeremo ai problemi di complessometria, ovvero a tutti quei problemi che si incentrano sull'EDTA e sul dosaggio dei vari cationi metallici. Nel problema di oggi vedremo coinvolto l'EDTA nel dosaggio del ferro, quindi l'esercizio di oggi che è stato esposto anche durante l'esercitazione è il seguente. Una soluzione di solfato ferrico ha consumato 15 ml di una soluzione standard di EDTA. La concentrazione della soluzione del chelante è stata determinata titolandone 25 ml con 15 ml di una soluzione di zinco solfato, ottenuta a sua volta per dissoluzione di 80,72 g di zinco solfato in acqua con diluzione a volume totale di 500 ml. Calcolare il peso del solfato ferrico della soluzione iniziale. Il peso molecolare del solfato ferrico è uguale a 151,9 g su moli, mentre il peso molecolare del solfato di zinco è uguale a 161,44 g su moli. Per prima cosa scriviamo tutti gli equilibri convolti nella procedura. Il solfato ferrico in acqua darà ioni ferrico più ione solfato. Subito dopo la titolazione dell'EDTA, l'EDTA si andrà a chelare agli ioni ferrico e quindi l'ione ferrico sarà chelato dall'EDTA. Dalla traccia sappiamo che la concentrazione dell'EDTA viene determinata attraverso lo zinco solfato, quindi le reazioni saranno le seguenti. Lo zinco solfato in soluzione darà ioni zinco più ioni solfato. Successivamente gli ioni zinco verranno poi chelati dall'EDTA. A questo punto possiamo passare calcoli, però procedendo al ritruso. Dalla traccia conosciamo il peso molecolare dello zinco solfato ed i grammi di zinco solfato disciolti in 500 ml di acqua, quindi è possibile calcolarci le moli di zinco solfato presenti all'interno di 500 ml d'acqua. Quindi il numero di moli di zinco solfato presenti in 500 ml d'acqua saranno uguali ai grammi di zinco solfato diviso il peso molecolare dello zinco solfato, uguale a 80,72 diviso 161,44 uguale 0,5 moli di zinco solfato presenti in 500 ml. Adesso dobbiamo però rapportare tutto a 15 ml, questo perché solo 15 ml di zinco solfato sono stati necessari a determinare 25 ml di EDTA. Per farlo dunque eseguiamo la seguente proporzione. 0,5 moli sta a 500 ml, come x moli sta a 15 ml. x sarà uguale a 0,5 per 15 diviso 500, uguale a 0,015 moli di zinco solfato in 15 ml. Dato che lo zinco solfato e gli ioni zinco sono in rapporto 1 a 1, le moli di ioni zinco liberate saranno proprio uguali alle moli di zinco solfato. Quindi il numero di moli di ioni zinco presenti in 15 ml saranno proprio uguali al numero di moli di zinco solfato presenti in 15 ml. Dalla teoria sappiamo che l'EDTA in opportune condizioni forma sempre chelati molto stabili reagendo sempre in rapporto 1 a 1 con quasi tutti i cationi metallici polivalenti. Da ciò quindi ne possiamo concludere che una mole di EDTA reagisce sempre con una mole di ioni metallico. Quindi applicato al problema abbiamo che le moli di EDTA presenti in 25 ml saranno proprio uguali alle moli di ioni zinco presenti in 15 ml. A questo punto però noi abbiamo le moli di EDTA presenti in 25 ml di soluzioni, ma la traccia ci dice che a titolare il solfato ferrico sono state le moli di EDTA contenute in 15 ml di soluzione. Quindi a questo punto, mediante la seguente proporzione, ce le possiamo ricavare. 0,015 moli stanno a 25 ml come x moli stanno a 15 ml. Quindi x sarà uguale a 0,015 per 15 diviso 25 uguale a 9 per 10 alla meno 3 moli di EDTA presenti all'interno di 15 ml di soluzione. Come detto prima e come scritto nella reazione di sopra, l'EDTA che è lo ione ferrico in rapporto 1 a 1. Questo significa che le moli di ioni ferrico saranno proprio uguali alle moli di EDTA presenti in 15 ml. A questo punto, sempre dagli equilibri scritti sopra, sappiamo che una mole di solfato ferrico rilascia 2 moli di ione ferrico. Quindi le moli di solfato ferrico in soluzione saranno calcolate mediante la seguente proporzione. Una mole di solfato ferrico sta a 2 moli di ione ferrico come x moli di solfato ferrico starà a 9 per 10 alla meno 3 moli di ione ferrico. x sarà uguale a 9 per 10 alla meno 3 per 1 diviso 2 uguale a 4,5 per 10 alla meno 3 moli di solfato ferrico. Infine, conoscendo le moli e il peso molecolare del solfato ferrico, possiamo calcolarci i grammi di solfato ferrico presenti nella soluzione iniziale. Quindi, i grammi di solfato ferrico presenti all'interno della soluzione iniziale saranno uguali al numero di moli per il peso molecolare del solfato ferrico, uguale a 4,5 per 10 alla meno 3 per 151,9, uguale a 0,684 grammi. E questo è il risultato finale del problema. Ragazzoli, questo è quanto. Fatemi sapere nei commenti se vi trovate con il procedimento e con i calcoli. E se trovate utili questi video, ricordate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale quale ora non l'aveste già fatto, per vedere altri video di questo genere. Al prossimo video. Buono studio.